Tremuri IL, il nuovo software per il calcolo degli interventi locali e l'applicazione del Sisma Bonus. Ecco il nuovo software Tremuri IL, Interventi Locali, che si affianca a Tremuri Pro, il software leader in Italia per la verifica globale degli edifici muratura e misti. Tremuri IL è il software per la progettazione degli interventi locali, secondo quanto richiesto dal capitolo 8 delle norme tecniche per le costruzioni. Non solo, Tremuri IL è stato pensato anche per la realizzazione e la preventivazione dei progetti relativi al Super Sisma Bonus 2020. Tremuri IL ha la stessa facilità di modellazione di Tremuri Pro, ma il modello può essere limitato solo agli elementi interessati, quindi il caricamento dei dati è ancora più veloce. È importante sottolineare la condivisione dei modelli con Tremuri Pro. Infatti, lo stesso modello realizzato con Tremuri Pro può essere utilizzato da Tremuri IL e viceversa. Anche i rinforzi, definiti in Tremuri IL, possono essere riportati in Tremuri Pro e inseriti nel modello globale. Il Workflow di Tremuri IL Il Workflow di Tremuri IL prevede prima la modellazione dell'edificio esistente. Si può partire da un modello condiviso con Tremuri Pro o può essere costruito direttamente in Tremuri IL. Il modellatore è lo stesso, utilizzato da migliaia di progettisti italiani e ottimizzato negli anni. In seguito, è possibile scegliere da un'estesa banca dati gli interventi necessari per il rinforzo degli elementi strutturali. Se necessario, si possono quindi calcolare gli elementi strutturali che necessitano di dimensionamento. Infine, la computazione, semplificata ma significativa, del costo di tutti gli interventi. Gli interventi che si possono definire all'interno del software risultano interattivamente collegati agli oggetti strutturali. Questa funzione è stata introdotta presentando una lista di interventi da applicare sull'elemento sul quale si vuole agire. Tutto ciò, ovviamente, è anche funzionale al Sisma Bonus, grazie al modulo Sismo Test per la classificazione sismica, integrato all'interno di Tremuri IL. La banca dati degli interventi strutturali. Completato il modello, si possono definire i rinforzi per ogni elemento e il collegamento tra gli elementi. In entrambi i casi, il software permette di scegliere un intervento da una banca dati che tiene conto dei diversi comportamenti degli elementi strutturali, ad esempio, per una parete in muratura, aumento della resistenza nel piano e fuori dal piano. Viene quindi presentata la descrizione estesa dell'intervento. È possibile applicare il rinforzo scelto, ad esempio in tonaco armato su tutta la superficie della parete o su di un'area limitata, di cui il software calcola in automatico la superficie. Per ogni intervento sono riportati Bibliografia specifica Proposte di materiali presenti sul mercato per l'esecuzione in cantiere Infine, il computo sintetico dell'intervento Eseguita la mappatura, nel modello 3D comparirà un marcatore, detto Push Pin, che segnala dove sono stati previsti gli interventi locali. Lo stesso per il rinforzo dei collegamenti, ad esempio tra un pannello e un solaio in legno. Il calcolo degli elementi strutturali Con il tasto Calcola, è possibile passare dalla definizione dell'intervento al calcolo, che varia secondo il tipo di intervento. Ad esempio, se dobbiamo effettuare un intervento su un solaio in legno, l'iter progettuale è il seguente. Definire l'intervento sul solaio Selezionare il tipo di solaio, in questo caso il legno Decidere la direzione in cui inserire il rinforzo Scegliere l'intervento adatto alla situazione, ad esempio l'inserimento di una soletta collaborante Accedere all'ambiente di calcolo per verificare se lo spessore della soletta è sufficiente E infine, ottenere una stima di questo intervento Nell'ambiente di calcolo, 3 muri IL esegue il calcolo statico dei carichi trasmessi tra le parti Ed infine il calcolo degli elementi strutturali, murature, travi, solai, ecc. Le verifiche All'interno dell'ambiente Verifica elementi, possiamo procedere alla verifica dei singoli oggetti strutturali presenti all'interno del modello. Quali elementi possono essere verificati? Per primi, travi e pilastri in cemento armato, sia in strutture nuove che esistenti. Quindi possiamo effettuare un progetto di una trave nuova in cemento armato O verificare l'armatura di una trave esistente Per effettuare il predimensionamento per l'analisi pushover che può essere eseguita successivamente Lo stesso può essere eseguito per i pilastri La tecnologia Drag & Work Velocità e precisione Per semplificare e controllare il calcolo dei singoli elementi strutturali È stata studiata una nuova modalità di presentazione dei dati Che sfrutta la tecnologia Drag & Work Nell'area di sinistra, i dati degli elementi sono sinteticamente riportati in una scheda rettangolare Ogni scheda può essere espansa, potendo visionare e modificare il contenuto Se le schede provengono dal modello, i dati sono già automaticamente riportati Altrimenti, l'utente inserisce i dati necessari Le schede sono raggruppate in tre colonne che indicano le fasi per completare il calcolo Colonna 1, lista degli elementi da calcolare Colonna 2, lista degli elementi calcolati Colonna 3, lista degli elementi completati di cui è possibile ottenere la relazione Il passaggio tra una colonna e la successiva avviene trascinando la scheda che consente di procedere nel calcolo Nella colonna 1 è possibile visionare la geometria, i carichi, i parametri di calcolo Trascinando una scheda dalla colonna 1 alla 2 avviene il calcolo dell'elemento e tutte le verifiche necessarie SLU, SLE, eccetera Dopo aver completato la fase di progettazione Trascinando la scheda dalla colonna 2 alla colonna 3 si potrà procedere con la relazione di calcolo È anche possibile spostare all'indietro le schede ritornando alla fase precedente Risulta chiaro quindi quanti elementi devono ancora essere calcolati, quanti sono già stati calcolati e quanti sono completati Gli elementi strutturali Sono disponibili solai in 1. Latero cemento 2. Lamiera grecata singola 3. Lamiera grecata con soletta collaborante 4. Predalles 5. Legno singolo 6. Legno doppio 7. Legno con soletta collaborante 8. Legno con travetti affiancati e cemento armato 9. Putrelle e voltini 10. Putrelle e tavelloni Sulle pareti in muratura si possono eseguire diverse verifiche, ad esempio gli architravi presenti sulle finestre Volendo inserire una porta o una finestra in una parete esistente, 3 muri IL verifica che sia ripristinata la resistenza pre-intervento e che le rigidezze siano paragonabili, così come prescritto dalla normativa per gli interventi locali Con 3 muri IL è possibile modellare anche strutture in cemento armato, acciaio, legno Ad esempio un telaio in cemento armato dove ogni elemento è verificabile E quindi, oltre le travi e i pilastri, posso verificare anche i tamponamenti se presenti all'interno del modello Ed effettuare la loro verifica utilizzando anche diverse opzioni di vincolo del tamponamento stesso sul nostro telaio Se si vuole evitare la modellazione, è possibile calcolare direttamente i singoli elementi, imputando semplicemente i dati richiesti In questo caso le sollecitazioni possono essere imputate direttamente dal progettista Inoltre, è possibile effettuare la verifica a fessurazione degli elementi in cemento armato, applicare dei rinforzi su queste strutture e verificarle Verificare le unioni in acciaio e legno e verificare, a flessione e presso flessione, gli oggetti strutturali sottoposti a fuoco Il computometrico estimativo Il software offre anche la possibilità di ottenere il computometrico estimativo semplificato delle lavorazioni indicate I documenti per il Sisma Bonus In conclusione, 3 muri IL permette di ottenere la documentazione aggiornata al Sisma Bonus 2020 Grazie al modulo per la classificazione sismica completamente integrato Con questo modulo è possibile classificare le strutture con il metodo convenzionale o con il metodo semplificato Vediamo in seguito alcuni esempi di calcolo con il metodo convenzionale per strutture in muratura e cemento armato e successivamente un esempio di calcolo con la metodologia semplificata e relativa a relazione e asseverazione aggiornato al Sisma Bonus 2020 Grazie a tutti